Bene, buongiorno a tutti, io intanto vi ringrazio in anticipo per la vostra presenza, per la vostra preziosa collaborazione. Stamattina iniziamo una conferenza che praticamente riguarderà il progetto Experience Scuola e Territorio e quindi andremo ad analizzare e a presentare le varie iniziative che sono state appunto studiate. E a tal riguardo lascio subito immediatamente la parola al direttore Gualtieri che li andrà ad esaminare. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere venuti, di aver accettato il nostro invito. Vedo una platea ampia e molto qualificata, quindi vi ringrazio. Ringrazio Giuseppe Capozzoli che è il responsabile del progetto Experience e ringrazio anche l'altro mio più stretto collaboratore che è alla mia destra, Domenico Verdone, che è il responsabile dell'area marketing. Sono solo due responsabili di un gruppo molto più ampio. Dietro il progetto Experience è coinvolta quasi la totalità del Frosinone Calcio, quindi lavorano oltre 40 persone a questo progetto che come vedete dalla diapositiva alla mia sinistra coinvolge tutte le attività del Frosinone Calcio, interne ed esterne. Quindi oggi, in effetti oggi, ho messo questa diapositiva alla mia sinistra che è un po' la premessa, il riepilogo di quello che comunque abbiamo presentato a luglio. Il nostro marchio Frosinone Experience raggruppa tutte le attività di marketing e di comunicazione del Frosinone Calcio, però in realtà è una piattaforma di lavoro che per noi significa il modo in cui, secondo me, deve interagire una società di calcio moderna, qual è il Frosinone, deve interagire con il territorio, con i tifosi, con la città, con le istituzioni. E in quel progetto c'è tutto questo. Oggi è una conferenza molto importante per noi, perché oggi parte tutto il progetto. È la prima di due conferenze, ne faremo un'altra domani, l'abbiamo fatta e ravvicinate, perché entro 48 ore partiranno tutti i progetti che vedete lì alla mia sinistra. Cioè tutto quello che abbiamo detto a luglio e che abbiamo promesso parte. Oggi scuola e territorio, quindi oggi dobbiamo presentare e far partire i progetti di experience scuola e di experience territorio. Domani presenteremo la linea di merchandising dello store che apriremo a fine ottobre, quindi partirà lo sviluppo del brand. E chiuderemo domani alle 19 con un incontro con i nostri sponsor del Frosinone Calcio, che sono preziosi. Sono tra l'altro quasi 100 aziende, questo lo dico perché è un onore, è un punto di forza per il vostro territorio. Sono 100 aziende, poche a livello nazionale, quasi tutti locali. Questo è un bel risultato anche per il vostro territorio. Domani alle 19 incontreremo questi 100 sponsor e inizieremo anche con loro, come vedete sempre in quella diapositiva, inizieremo il percorso del club Amici Sponsor. Quindi entro 48 ore partono tutti i progetti. Iniziamo oggi con i nostri progetti scuola e territorio. Allora le attività dell'experience scuola che presenteremo oggi sono quattro. Sono quattro attività importanti, coprono praticamente tutte le fasce d'età, dei ragazzi in età scolastica praticamente. La prima iniziativa è la Benito Stirpe School Cup 2018. Questa è la manifestazione, cioè la coppa, il trofeo, che metteremo in palio per gli istituti superiori. Quindi diciamo che va nella fascia 14, 15, 18 anni. Quindi collaborazione, e colgo l'occasione per ringraziare, ma lo farò spesso durante questa conferenza, perché ci sono tante istituzioni, tanti enti, tante persone da ringraziare. Collaborazione con il provveditorato agli studi, con il provveditore, al quale poi darò la parola, e soprattutto ci tengo subito a dire che abbiamo arricchito di contenuti, in effetti, la nostra area experience scuola, perché ci faremo, ed è un onore per noi, accompagnare da un partner d'eccezione, un partner d'eccezione in tutte le nostre attività della scuola, che è la questura. E non avremmo potuto trovare partner migliore, perché come sapete l'experience scuola è il nostro progetto che serve a divulgare i valori positivi dello sport, e insieme ai valori positivi dello sport verremo affiancati dalla questura, che ci aiuterà, metterà a disposizione delle risorse, per divulgare anche valori importantissimi, che sono la legalità, la sicurezza, il rispetto di se stesse e degli altri, e quindi tutti i valori per i giovani molto molto importanti. Ritorno all'abbenito Stilpe School Cup, quindi otto istituti superiori, sei di Frosinone e due di Ferentino, si contenderanno questo titolo. Quindi lo scopo è di coinvolgere i ragazzi in una manifestazione che sarà molto emozionante per i ragazzi. Io immagino quando ero al liceo se avevo una possibilità di questo tipo nella mia città, un appassionato di calcio come me e come tanti giovani al liceo non avrebbe dormito la notte, perché noi daremo la possibilità a questi ragazzi il 13 e il 14 gennaio di giocarsi in due giorni, sabato e domenica, il trofeo al Benito Stilpe. Quindi giocheranno sul terreno di gioco dei loro beniamini e sarà sicuramente un'emozione. Faremo quarti di finale, semifinale e finalissima in quel weekend. Assegneremo questo trofeo, che è un trofeo di valore, è realizzato dal maestro orafo Spadafora, che fanno questo lavoro dal 1840, quindi è un trofeo in ore argento disegnato proprio da lui per l'occasione, che tra l'altro abbiamo portato, Giuseppe, quindi adesso lo faremo vedere e lo consegnerò oggi al provveditore, agli studi, che lo terrà fino al 13-14 gennaio, quando poi lo consegnerà all'istituto che vincerà il trofeo. Diciamo che la manifestazione, come vi ho detto, è molto snella, si fa in un weekend, chi vince il trofeo tiene la Coppa, tiene la Benito Stilpe School Cup per tutto l'anno e poi l'anno dopo la consegna, a meno che non la rivince di nuovo, la consegna all'istituto che vincerà. Funziona come la Coppa del Mondo, l'istituto che vince tre volte se lo tiene definitivamente il trofeo e il maestro Orofo Spadafora provvederà a farne un altro, diciamo, con un altro design. Quindi questo è lo spirito della School Cup. Seconda iniziativa è questa, si chiama Frosinone Salincattedra, vedete sempre, come vi dicevo, la partnership in alto, Frosinone Calcio, Provveditorato e Questura, che ci accompagnerà sempre nelle attività, nelle scuole. Frosinone Salincattedra invece è rivolta agli istituti delle scuole elementari. Andremo in sei istituti, sì, ho sbagliato, scuole medie, abbiamo un po' tanta roba, quindi scuole medie, mi correggo, scuole medie. Andremo in sei istituti delle scuole medie, sempre Frosinone e Ferentino, con due calciatori che spiegheranno la loro storia, spiegheranno i sacrifici che hanno fatto, spiegheranno la lealtà, i comportamenti, tutti i valori sani del calcio, sportività, rispetto dell'avversario, e verremo affiancati dalla Questura, che invece parlerà di sicurezza, legalità e di comportamenti corretti. Quindi inizieremo a novembre, perché ottobre ho visto, ma abbiamo un po', quindi inizieremo a novembre, finiremo a maggio e andremo in queste sei scuole medie. Poi è prevista anche una School Cup Under 12, questa è un po', diciamo, questa è un po' delegata al nostro settore giovanile. Questo è un torneo molto più lungo, inizia a novembre e finisce ad aprile. Si svolgerà praticamente tra l'Academy, le scuole calcio, associate al Fosinone Calcio, quindi questo è un torneo che giocheranno ogni domenica, è proprio un campionato molto lungo, però l'ho inserito, ovviamente, nel discorso scuola, perché anche le semifinali e le finali di questo torneo si giocheranno al Benito Stirpe, quindi qui i ragazzi della quarta e quinta elementare avranno la soddisfazione e l'emozione di giocare anche loro al Benito Stirpe, nella semifinale finale che si farà a fine maggio, dove probabilmente collegheremo anche un'operazione di solidarietà nell'occasione. Ultima delle quattro iniziative che devo elencare, si chiama Gio Calcio e questa è un'attività che invece è stata proposta, quindi un'attività proposta, pensata dal provveditorato agli studi, dalla professoressa anche Campagna che ha partecipato, infatti vedo e ringrazio per la partecipazione, che ha partecipato attivamente al progetto Experience Scuola. Quindi Gio Calcio porterà alla fine, a fine aprile, porterà allo stadio 4.000 bambini, 3.000-4.000 bambini in due giornate, 1.500 bambini per giornata. Però colgo l'occasione, quindi perché di questo vorrei far parlare direttamente chi l'ha pensata, il provveditore o la professoressa Campagna che per un saluto e quindi la invito a venire a spiegarci velocemente. Noi abbiamo previsto 5 minuti? 3 minuti. 3 minuti addirittura. 3 minuti abbiamo previsto per Dottor Malandrucco, provveditore agli studi. Un saluto, qualche battuta sull'iniziativa e poi ci spieghi Gio Calcio così. Ah, lo facciamo spiegare alla professoressa? Perfetto. La professoressa Campagna è l'ideatrice di questa cosa e che io approfitto per ringraziare per le molteplici attività che facciamo e che lei è sempre disponibile privandosi anche del tempo familiare in sostanza quindi si dedica molto alle attività dell'ufficio scolastico provinciale e anche in questa occasione ha dato il massimo del suo impegno. Detto questo io approfitto intanto per salutare il Dottor Gualtieri e Giuseppe Capozzoli con i quali ci siamo sentiti per questa attività che non tanto tempo fa per la verità e quindi abbiamo accelerato proprio per cercare di dare ai ragazzi la possibilità di iniziare immediatamente le attività sportive che poco fa il Dottor Gualtieri ha accennato. Approfitto per salutare ovviamente tutti i dirigenti scolastici presenti abbiamo convocati sia quelle delle scuole superiori che degli istituti comprensivi tutti i docenti referenti di educazione fisica che oggi sono presenti e che dopo con i quali ci vedremo dopo per affrontare praticamente tutto quello che ci siamo prefissati di fare. Io non vorrei aggiungere tanto di più di quello che poco fa lei ha perfettamente già rappresentato diciamo che come ufficio scolastico provinciale noi siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa quindi vi ringraziamo per averci coinvolto ovviamente qui i protagonisti sono i ragazzi come sempre e i nostri ragazzi ovviamente hanno tutto giocare a calcio portarli nello stadio stirpe che insomma facciamo anche i complimenti al Frosinone Calcio per aver realizzato uno stadio uno dei primi in Italia insomma se non sbaglio è il terzo come struttura e quindi quarto privato però quindi insomma è un orgoglio anche per non solo per l'associazione cioè per la società calcio Benito Stirpe ma è un orgoglio per tutta la provincia di Frosinone detto questo lei già ha accennato io dunque gli obiettivi forse che ci siamo prefissati per la School Cup lei li accennava prima li richiamo velocemente e sono quelli che il progetto che si prefigge in sostanza sono la promozione fra i giovani quello che dicevo poco fa è di trasmettere i valori positivi dello sport non è casuale parlare di lealtà positività sacrificio correttezza e rispetto delle persone cioè questi sono voglio dire i messaggi che noi pensiamo di dare insieme a voi ci sono diciamo qui sarebbe un po' da sviluppare ma lei mi diceva poco fa che il tempo è quello che ci ha segnato insomma ma diciamo non diciamo molto di più cerchiamo di essere pratici e quindi questo della School Cup Benito Stirpe è quello che diceva poco fa affidando anche a noi questa responsabilità di tenere quella coppa insomma che custodiremo gelosamente io dicevo poco fa questore che approfitto della sua preferenza e saluto che forse era meglio tenerla da lui che era un po' più sicuro visto che c'era no? vabbè però detto questo insomma cercheremo di essere precisi anche sotto questo aspetto allora lei diceva poco fa che abbiamo appunto convocato per questo tipo di progetto i sei istituti della provincia di Frosinone e i due di Ferentino quindi per l'altro invece Frosinone sale in cattedra sono gli istituti comprensivi coinvolti sempre del capoluogo cioè di Frosinone e due di Ferentino anche per questo insomma i protagonisti sono i ragazzi quelli più piccolini e anche qui insomma i messaggi che noi dobbiamo mandare come persone un po' più adulte sono quelle appunto oltre a quelli valori che ho citato poco fa anche quella dell'integrazione che non è e dell'inclusione che non è casuale richiamare in queste attività sportive io ecco mi vorrei fermare qui e lasciare la parola per illustrare il terzo progetto Gio Calcio redatto pensato e redatto dalla professoressa Campagna ben grazie 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 quindi tanto visto che ho sentito ha convocato anche i docenti ci sono i docenti sono praticamente i coach quelli che faranno la nazionale dell'istituto dove sono? i referenti di educazione fisica? c'è quali? no ce ne sono quindi faranno creeranno la nazionale dell'istituto quindi voglio voglio dire una cosa che non trovate in cartellina la dico ai docenti che nella festa di Natale poi faremo un sorteggio faremo un sorteggio a fine anno e un calciatore del Frosinone Calcio affiancherà il docente in panchina durante la Benito Stirpe School Cup quindi a ogni istituto verrà associato un calciatore farà però farà il vostro secondo sarà l'allenatore il secondo buongiorno a tutti grazie della possibilità che mi date il progetto è stato pensato per poter coinvolgere tutte quante le scuole del territorio di Frosinone Gio Calcio in realtà si rivolge ai 50 istituti comprensivi i ragazzini coinvolti saranno quelli della quinta elementare l'idea qual è? soprattutto coinvolgere i docenti gli insegnanti e durante nel corso di tutto l'anno scolastico attraverso le loro attività motorie potersi esercitare con giochini attività ludiche che sono in realtà tutte quelle attività preparatorie per l'attività sportiva vera e propria in questo caso qua in quella del calcio allora l'insegnante durante le proprie ore durante tutto l'anno scolastico alla fine si ritroverà insieme agli altri insieme agli altri insegnanti agli altri bambini delle altre scuole in tre giornate probabilmente all'interno dello stadio Stirpe bellissimo stadio Stirpe sul tappeto verde dello stadio Stirpe a gareggiare fra di loro il campo verrà suddiviso a sua volta in tanti campi dove i ragazzi possono ovviamente gareggiare con i propri giochini non saranno delle vere e proprie attività legate alle partite di calcio ma quell'aspetto ludico che probabilmente riesce a coinvolgere proprio tutti l'idea è una metà del gruppo che sarà in gioco sul terreno ma l'altra metà che potrà gironzolare nello stadio che è appunto molto grande nei vari spazi per poter parlare poi con gli interpreti e questo ovviamente capovolgendo poi la giornata lasciando gli altri a giocare e viceversa l'obiettivo fondamentale è quello di poter intervenire e poter lavorare non solo durante tutto l'arco dell'anno scolastico dall'altra parte coinvolgere tutti i bambini perché se in questo primo anno con School Cup con Frosinone sale in cattedra necessariamente come primo anno i protagonisti non potranno essere proprio tutti e tanti con Gio Calcio l'idea era proprio quella insomma di poter coinvolgere tutti i bambini allora questo vuol dire che il prossimo anno sarà sicuramente di maggiore progettualità e con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di protagonisti insomma considerare che sia i bambini insomma 80.000 studenti nel nostro territorio sicuramente hanno il diritto di venire a divertirsi anche dentro lo stadio Benito Stirpe e quindi grazie ancora grazie grazie del contributo e della passione che vedo la professoressa quindi veramente grazie bene allora ora passiamo alla seconda la seconda fase che riguarda experience e territorio e il direttore ci illustrerà quello che è insomma il progetto l'iniziativa presente in questo ambito grazie